E riprendiamo la molecola. La molecola è questa, quella della quercetina, e questa è quella del glucoside, dove vediamo lo zucchero, quindi il glucosio in questo caso, legato alla quercetina. Allora, quello che accade in termini di solubilità, e noi lo sappiamo, se noi preparassimo una soluzione di acqua e zucchero, lo zucchero si scioglie ovviamente, a meno che non abbiamo concentrazione proprio troppo elevate, la quercetina invece se la andiamo a mettere in acqua subito precipita. Quindi questo a che cosa è dovuto? Ecco qua, è dovuto a quella che è la distribuzione di carica all'interno delle molecole. Allora, questo è uno studio molto recente, del 2020, che è uno studio che ha affrontato il problema della solubilità di diversi composti fenolici ad attività antiossidante, come la quercetina, e proprio perché appunto bisogna capire la biodisponibilità di questi composti, si deve comprendere quanto questi composti siano solubili o meno in acqua o per esempio in etanolo, che è l'altro solvente che è presente nel vino. Allora, per fare uno studio di solubilità bisogna capire quella che si chiama la superficie delta, cioè la quantità di carica elettrica presente sulla superficie della molecola. Perché noi stiamo mettendo questa molecola in soluzione, nel caso nostro dentro il vino. Allora, l'acqua, vedete le parti rosse, la rossa vedete l'ossigeno, le parti in blu sono gli idrogeni e vi ho messo vicino la carica. Ossigeno, carica parziale negativa, le parti in blu gli idrogeni, carica parziale positiva. Allora, l'acqua è una molecola polare, l'etanolo, vedete non è poi tanto polare, sì c'è la parte negativa, la parte positiva, ma poi c'è questa parte verde che è apolare perché è la parte relativa agli atomi di carbonio. La quercetina, come vedete, è quasi tutta verde, come dire, è molto apolare e quindi, lo vedremo tra poco, è veramente difficile che sia solubile in un solvente polare. Mentre il glucosio, se lo andiamo a guardare, scusatemi ma non ho trovato lo stesso tipo di grafica perché non era presente nello stesso lavoro, però se andiamo a guardare l'ossigeno sempre in rosso negativo, i protoni, quindi gli idrogeni, sempre in blu carichi positivamente, quindi il glucosio è polare. Quindi, in chimica, quello che accade è che il simile scioglie il simile. Allora, se andiamo a mettere lo zucchero in acqua, effettivamente questa è la molecola di glucosio, questo è un bellissimo video, ecco, se volete potete andare a vederlo, che fa capire come il glucosio effettivamente sia solubile in acqua perché si stabiliscono tutte delle piccole interazioni tra questo ossigeno e l'altra molecola di acqua, magari la parte protonica, ecco, qua si vede bene. E quindi, mentre per i moti browniani la molecola di zucchero si muove in questo mezzo contenente acqua, siccome si stabiliscono tutte queste interazioni, come devo dire, che sono energeticamente favorite perché effettivamente ci stanno le forze di dipolo che attraggono, effettivamente lo zucchero si scioglie. Se andiamo a prendere la quercetina, quello che vediamo è che essenzialmente solo magari, ecco, verso questa parte qui positiva, un po' qualche molecola di acqua negativa, la parte, scusatemi, di ossigeno che ha carica parziale negativa, ma poi vediamo che nel tempo, e questo è un altro fattore importante, il fattore tempo, quello che accade è che nel tempo effettivamente la quercetina, come dire, resta sempre più da sola perché non riesce a stabilire dei legami temporanei con le molecole di acqua, quindi essenzialmente tutto questo ovviamente viene studiato con tecniche avanzate chimico-fisiche, quello che accade è che la molecola di quercetina resta isolata in soluzione, essenzialmente quindi le molecole di quercetina iniziano ad allontanare l'acqua, ad avvicinarsi tra di loro e quindi a fare quei pacchetti che abbiamo visto, quei cristalli bellissimi che poi precipitano, bellissimi sempre dal punto di vista chimico, magari non tanto enologico. Allora, la questione è, cosa accade però con altri solventi? Nel vino c'è un po' di etanolo, l'etanolo cosa fa? Allora, queste sono delle soluzioni che devo dire, in vista di questo seminario abbiamo preparato ieri nel laboratorio, questa è una soluzione di quercetina in metanolo, guardate la quercetina in metanolo, perfettamente solubile, quindi in questo solvente, ma in solvente organico, che ha una minore polarità, la quercetina si scioglie. In una soluzione idroalcolica, 12% di etanolo, tipo vino, come vedete non si scioglie e vediamo qua il precipitato. Infatti in letteratura noi troviamo delle tabelle di solubile... Infatti in letteratura noi troviamo delle tabelle di solubile, come vedete non si scioglie e vedete non si scioglie.